e ormai lo sapete tutti che la Cina ha superato la questione del coronavirus però ora in Cina si sono accorti che il coronavirus covid-19 ritorna indietro ecco io la notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video ho già avuto modo di evidenziare che questo virus, questo coronavirus, questo covid-19 vive molto bene dove c'è tanto inquinamento e infatti esso è apparto per la prima volta nella zona più inquinata del mondo in quella regione della Cina che alcuni paragonano a una sorta di Silicon Valley una zona della Cina di circa 50 milioni di abitanti poi da quella zona della Cina che è la zona più inquinata del mondo il virus si è tuffato nella Valle Padana che dopo quella regione cinese, la Valle Padana, è la regione più inquinata del mondo infatti in Lombardia, in Emilia Romagna, in Veneto e si sta ancora combattendo contro il coronavirus e adesso si sta spostando negli Stati Uniti e anche gli Stati Uniti non scherzano con l'inquinamento beh io qua faccio una breve riflessione storico-psicologica Sigmund Freud scrisse tante opere una di quest'opera si intitolava Il disagio della civiltà Il disagio della civiltà cioè la civiltà ci dà tante belle cose ci dà tante belle cose la civiltà ci dà tante scuole, tante università, tanti ospedali radio, televisione, cinema ci dà computer, smartphone però ci dà anche l'inquinamento il nostro pianeta ormai è quasi ovunque una fogna a cielo aperto l'umanità deve scegliere deve scegliere se tornare indietro se tornare indietro tornare a un modus vivendi spartano spartano e quindi restituire al pianeta Terra la sua pulizia naturale oppure godersi dei vantaggi della scienza e della tecnica e godersi pure l'inquinamento e anche il coronavirus e tutti i virus del genere ecco, l'umanità cosa farà mai l'umanità? io non lo so io credo che l'umanità non torna indietro non torna indietro penso che l'umanità preferisca vivere in una fogna a cielo aperto capito, cari amici? sì, purtroppo io la penso così una fogna a cielo aperto ok, cari amici ok, a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni ok, grazie a tutti